Non preoccuparti, ricordo benissimo dove stavamo. E ti devo dare una notizia interessante. E cioè? E ho vinto, e ho spacco tutto. È vero. Ti è stato l'aiuto questo l'invio? Ah sì, certo. Ne sono vieta. E adesso ti lascio. Quando ci rincontreremo sarà giunta l'ultima ora. Per te e i tuoi compagni di viaggio. E tu ci svelerai i tuoi segreti? Io non ho alcun segreto da svelare. Allora non sai niente. Non mi serve sapere. To find the one who told him that it's not too far. Come дивist市. Allora non